Siamo all'attualità, nessuno ha mai sostenuto e pensato che la categoria dei frutti vendoli siano avvelenatori della città, ma non si può accettare vedere marciapiedi pieni di cassetti di frutta che costituiscono ostacolo per il passaggio, ma anche esposta da agenti inquinanti del traffico veicolare senza precauzione. Così come non si può accettare l'abusivismo commerciale, noi andremo avanti. Sono parole dell'assessore alla Polizia Locale con delega allo sviluppo economico del Comune di Andria per Paolo Matera che rifiuta ogni accusa di accanimento contro gli esercenti, ma un primo segnale positivo già c'è. I frutti vendoli infatti aderenti alla FIDACOF Commercio di Andria hanno lanciato una campagna per sensibilizzare i propri colleghi alla copertura della merce esposta al di fuori della propria attività per coniugare esigenze del commercio e interessi dei consumatori. Noi saremo irreprensibili in questa direzione, nel senso che abbiamo intrapreso una strada, un percorso di rispetto delle regole e queste regole vanno rispettate. Perché se da una parte ingiustamente ci siamo meritati l'appellativo di un accanimento sanzionatorio che non esiste, dall'altra parte non possiamo arretrare di un millimetro rispetto all'impostazione e gli indirizzi che ci siamo dati. In buona sostanza posso tranquillamente affermare che ogni forma di abusivismo commerciale legato alla vendita di frutta e verdura è stata debellata. È una sparuta minoranza i frutti vendoli che non si sono adeguati rispetto alle autorizzazioni di occupazione dei marciapiedi, che lo ricordo, oltre ad avere riflessi sui profili salutistici della merce esposta, costituiscono anche un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Immaginiamo un marciapiede non autorizzato nel quale si espongono cassette ed un disabile che deve passare con la carrozzina, una mamma che trasporta il proprio bambino. Quindi sono tutti disagi legati a questo fenomeno. C'è solo un problema ancora che stiamo affrontando con decisione ed è quello delle itineranti che, anziché essere itineranti, occupano postazioni fisse. Sono rimasto abbastanza basito anche da alcune posizioni di associazioni di categoria, perché in un loro articolo hanno parlato appunto di accanimento sanzionatorio, come se i vigili intervengano per la prima volta e subito dopo consegue la sanzione della sospensione dell'attività in misura minima per un giorno. In realtà non è così, perché la sospensione, lo dice la legge regionale, consegue a reiterate violazioni di cui si è reso protagonista ovviamente l'esercente. Per cui non risponde assolutamente a verità che c'è un accanimento sanzionatorio, la squadra non aria avvisa, sanziona e solo dopo reiterate, sottolineo reiterate, sanzioni per i più riottosi, perché lo dobbiamo dire che c'è gente che non si predispone per il rispetto di alcuna regola, c'è il provvedimento di sospensione per una giornata, il lunedì, che è una giornata di meno attrazione per la vendita, quindi il minor pregiudizio possibile e quando anche la legge preveda di tre giorni la sospensione la combiniamo di un giorno, proprio per dare un segnale di sensibilizzazione anche nei confronti di chi non si adegua. Siccome appunto la vicenda richiama evidentemente dei profili salutistici, quindi anche di educazione al consumo, le chiedo se è il caso di coinvolgere in questo processo anche per esempio il Dipartimento di Igiene e Prevenzione e in secondo luogo se per esempio quello che accade al mercato generale sia sotto controllo. In effetti io ho avuto preliminarmente a tutto questo bailam un incontro sia con il rappresentante della Confcommercio che del delegato relativamente agli esercenti dei fruttivendoli insomma. In questo percorso abbiamo anche previsto il coinvolgimento della ASL, personalmente l'ho già sentito sia il dottor Magarelli che la dottoressa Matera, e abbiamo convenuto per l'emanazione di un provvedimento che salvaguardasse l'esposizione dalla contaminazione dell'inquinamento veicolare. Sul mercato generale mi dicono che ci sono controlli costanti dei NAS dei carabinieri, ma interverremo anche lì per verificare un attimino tutto il processo sia della tracciabilità dei prodotti, perché anche di questo si è parlato in questa riunione, perché sarebbe opportuno che i fruttivendoli esponessero soltanto merce tracciabile, sia anche di verificare chi accede al mercato, cioè se hanno le autorizzazioni necessarie per l'acquisto della frutta all'ingrosso per poi essere rivenduta in città.